scusate cosa ha fatto l'inder col ria società 0 a 0 ma non era detto da mauro la squadra che quando parte l'impartenza la squadra più forte del mondo no perché ci vuole far ricordare che all'andata finì 1 a 1 e meritava la società questa volta diciamo il pareggio è giusto ma come mai la squadra più forte dell'universo non ha vinto no perché magari sbaglio inter 0 a 0 possesso palla addirittura 62 per cento con di 38 ma chi fu qua intenditori di champions e di secondo poster non buonasera da un pare palermo allora dunque ho capito una cosa visto che sempre intenditore di pallone ho capito che senza la tauro e senza barella voi siete c'è senza di loro praticamente la juventus potrebbe vincere il campionato vedi che sta ti dico perché loro due vi fanno proprio sono la chiave di questa siamo grande inter in italia in italia dico un 70 per cento buono senza di loro due inghiacciare ragazzi secondo me è una squadra vedete tutti credi è una squadra fortissima potente di quadra un è vero un è vero questo ho capito comunque detto questo allora interista sente se fossi stato io tifoso diciamo per scritto oggi io facevo dissing a Enzaki perché tu allora capisco che dovete vincere il campionato capisco che dovete mettere la seconda stella capisco tutto ma non mai che tu eri a praticamente a 11 punti a pari punti con la società cioè io Enzaki cioè c'è sta a dire compa io voglio a barella messo in campo più lautaro mettiamo formazione tolare e andiamo al primo posto anche perché adesso ora vi beccate il secondo posto mangi dei siti riamma ridi bachelona a terco madrid forse puro arsenal d'orto ma quando quante squadre vi incontrate assai ben monaco ma no squadroni senti senti andate ritorno se becchi ben monaco gli ammariti mani sessiti arsan date ritorno agli ottavi uscirai te lo dico subito ripeto se fossi stato interista io me la prendevo con Enzaki perché non puoi tu farmi veramente far giocare a Sanchez quel pensionato bitone che praticamente l'inter giocava in dieci perché all'altro tanto tu ramma si è fatto proprio un mostro si è fatto un culo così perché si è dovuto sbattersi il doppio per Sanchez perché Sanchez correva a vuoto come sembra ovviamente metteva in difficoltà la fase sia offensiva che difensiva ragazzi ripeto io a posto di Sanchez almeno mettevo te mettevo Turam e Arnatovic visto che lui non se ne fegava niente il primato cioè così ha fatto capire Enzaki ragazzi cioè ripeto se fosse per la terza volta se fossi stato interista io me la prendevo con Enzaki ragazzi tu Lautaro e Barella tu io voglio vincere il primato almeno perché anche perché sai come la cimbre sono soldi tu praticamente agli ottavi prendi una seconda meno debole di quello che prenderai meno debole di quello che prenderai e vai avanti no non ha senso che poi che fice Lautaro con l'Udinese praticamente l'ha fatto giocare 90 minuti perché cosa perché vi faccio vincere proprio cagnoniere un golletto la c'è l'Udinese mette 90 minuti è una partita importante con la società di noi ma come ragioni tu guarda no guarda ripeto poi la società diciamo avete pareggiato andato a ritorno con la sesta posizione della liga la sesta forza del campionato spagnolo ripeto è una squadra diciamo eh rognosa è una squadra diciamo molto fastidiosa questo sì anche perché vi ha fatto più possesso possesso palla della società quindi nulla da dire tiri in bordo sono stati uguali ripeto l'unica occasione che ha avuto l'inde tutta la partita no è stata quella di Lautaro 95esimo poi ha fatto tiracci quadrato tiracci di Sanchez la no Sanchez la tiraccia di Marco poi nel secondo tempo proprio ha giocato proprio veramente molto meno intensità rispetto al primo tempo al primo tempo bene o male quando partiva perché Turam si è fatto veramente il tuo ram si è fatto il doppio di Sanchez ma Sanchez rubi tu ne va buttatolo fuori guarda poi c'è stato questo il cubo il cubo il cubo uccidio giapponese il cubo il cubo il cubo il cubo che si era tuffato diciamo ha fatto bene che non era ricorda però vedi com'è avarla funziona ingia come funziona vedi contro l'inde come funziona no perché sai in italia queste cose non li vediamo capito c'è da dire anche questo per ricorda in effetti ha fatto bene perché ha simulato alla carne quindi ricorda non c'era le cose giuste dico sempre però vedi com'è il ricorda fuori fino alla pinotina fino alla pinetina diciamo usava le spende cose dopo la pinetina sembra accesa in Europa capito vorrei vedere veramente quella entrata a forbice di quadrato all'attaccante della società non lo so se ricorda quello però ne hanno parlato poco ma detto questo in fin dei conti un bareggio che ci sta alla fine l'inder non ha non ha forzato più di tanto perché in zai che ha sbagliato formazione io do oggi proprio il secondo posto e se lì in uscita gli ottavi di finale la colpa è solo di in zaki perché doveva mettere assolutamente barella all'autaro serio se fossi stato interista ripeto ma pigliarsi con in zaki perché tu una partita importante tu non deve non vuoi non vincere 70 mila 80 mila spettatori a in zaki ragazzi e come dico io interista mi dà ragione su giro per forza secondo posto grazie in zaki va bene comunque ma la squadra più forte del pianeta del fuoco più forte il mondo ma come quando ma non ha capito che in europa c'è squadra più forte l'inde quando ma in italia foto ma ripeto arrivava però va fuori avete pareggiato due volte con la società dall'andata a meditare la società a 100 per cento avete pareggiato a culo stavolta il pareggio diciamo poteva essere giusto però ripeto se l'autaro gioca a primo minuto con tu ram questa partita la portava proprio la portava in saccoccia l'inter al 100 per cento proprio vinceva l'inter anche perché l'autaro praticamente in 30 minuti manco 25 minuti ha avuto due tiri ha fatto l'occasione 95esimo quindi sbaglio proprio in zaki ha sbagliato la grande ciao interista di saluto